DI BOLA TOP PLAYER Buongiorno a tutti raga Io sono Stickerz e oggi siamo qua A fare l'unboxing di altri 13 pacchetti adrenaline tempi supplementari Prima di cominciare col video Chiedi lasciare un bel like e supporto Iscrivetevi al canale se trova proprio qua sotto Se ancora non l'avete fatto Vi ricordo soprattutto anche di attivare la campanellina Così sarete sempre i primi a commentare quando esco i miei video E soprattutto vi ricordo l'hashtag Salutami se volete essere salutati nel prossimo video o dopo ancora Magari iscrivetevi sotto il nickname Così vi saluterò con quello Detto questo non sprechiamo altro tempo E spacchettiamoci questi pacchetti tempi supplementari Cercando qualche top player Andiamo col primo pack Poi ragazzi alla fine del video vi farò vedere Come sto messo con il raccoglitore Quindi rimanete fino alla fine così vedete come sto messo Se sono più avanti o meno avanti di voi Abbiamo Andrea Spreira Plus De Silvestri Marquit Poi abbiamo un centrocampista che è Kojko Madonna quant'anni ho trovato di Kojko Hakanciano Agustella Questa già ce l'avevo E poi abbiamo No doppio raga Rodrigo De Paul doppio Non ci credo Mannaggia Che palle Secondo pack Vediamo cosa troviamo Però che palle raga aver trovato così Rodrigo De Paul doppio Ma no Abbiamo Pandur Cristian Dell'Orco Raja Neangolano Stefano Pioli Padre Pioli Poi abbiamo Lukaku Bomber E Bruno Alves Idolo Terzo pack In teoria raga non so cosa riuscirò a trovare qua dentro Anche perché ho già trovato la Platinum Abbiamo Hikey intanto Kronici del Milan Zappa Keita Bald Poi abbiamo Di Bola Top Player Di Bola Top Player Sì Sì Matti a destro Ma abbiamo trovato anche Lo stavo dicendo adesso Era difficile trovare una Top Player Un'altra Platinum Avendo già trovato anche De Paul Ma intanto troviamo Di Bola Top Player Uff raga Andiamo col quarto spacchettamento Era già abbastanza Come dire Un po' Demotivata Dopo aver trovato la Platinum Anche perché ha il primo pacchetto così Intanto abbiamo Borcavalet Zak Mohamed Fares Miailovic La checklist Sempre molto utile Arthur Ed Ambrosio Idolo Uff raga Mi manca il fiato Da quanto ho sultato Per il buon gacchio Paolino Intanto abbiamo Adrian Tamès Pobega Autore del gol contro la Juventus Tra l'altro Roberto Pereira Top Plus Chiesa Poi abbiamo Sansone Specialista Che mi mancava E Borucci Difensore insuperabile Pack successivo Ragazzi Ivan Perisic Valerio Verra Che c'è anche al Fanta Gomelt Stroppa Mister Poi abbiamo Alvarone Morata Stella Che mi mancava Molto bene E Stefanino Sensi Super Combo Andiamo col pack successivo Meno male Che ho trovato Di Bola E raga Questo qua tra l'altro Ne dico Prendete tutto il box Ma aveva solo 13 bustine Allora cos'è Vabbè Dammele tutte Speravo già solo Che non ci fosse dentro A meno una Platinum Perché le altre 13 bustine Erano andate Le altre 11 E invece Sia Platinum Che Top Player Fantastico Cetin Deiola Diego Godin Top Plus Che già avevo Fonseca Mi mancava E poi abbiamo Martin De Ron Idolo Pacchetto successivo Partiamo subito con le rare Qua abbiamo Lorenzo Insigne Specialista Che già avevo Nicola Canic Super Combo Poi abbiamo Golda Nigga Hoard Ciprienne Il pacchetto dopo Gojack Super Combo Quarta squadra Poi andiamo Voglio salutare Lastery Sara Gaetano Lupino Marco Andry Tank Diego Ultrabomba Gamer CR Davide Cristian Yassin Vincenzo Calamaro Channel Monica Tommy Player Arctic 2010 Fabio Ale009 Bro Frenna Maria Alex David Ciro 10 Filippo Falanga E Mizz 08 Raga Detto questo Vi lascio Al prossimo Video